Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma. Puntata questa sera dedicata a un argomento specificatamente Comasca, una ferita aperta della città di Como e lo scoprirete subito con l'aiuto della nostra copertina. Immagini che risalgono a venerdì scorso sirene, vigili del fuoco, fiamme alte oltre 10 metri, veri e propri momenti di emergenza. Venerdì scorso l'edificio Santarella è andato a fuoco per la seconda volta, peraltro, negli ultimi anni. L'edificio Santarella è l'ex centrale termica della ex fabbrica Ticosa, che è stata abbattuta nel 2007. Questo nuovo quartiere non è stato più ricostruito. Una ferita aperta, dicevamo, per la città di Como. Venerdì scorso questo incendio devastante che ha riportato di estrema attualità il problema di questa area dismessa in centro a Como. Problema amministrativo, perché non è facile, però si deve fare, tenere chiusa un'area abbandonata, attualmente o comunque non utilizzata, che se accessibile può dare problemi di ogni sorta e di ogni natura. Nella Santarella vivevano circa 20 senza tetto che sono scappati e sono riusciti a sfuggire per un soffio alle fiamme di venerdì scorso, ma l'incendio avrebbe potuto avere un bilancio ben più negativo, anzi un bilancio tragico. Quindi un problema di natura amministrativa, chiudere gli accessi a una zona di fatto abbandonata, un problema di natura politica, ossia capire cosa fare in futuro di quest'area. Perché l'Itera è iniziato nel 2007, anzi in realtà molto prima, ma nel 2007 con la demolizione, sono passati nove anni e dopo processi lunghi, bonifiche complesse, ancora i comaschi non hanno visto una singola mattonella del nuovo quartiere di Cosa. Infine è anche un problema che ha a che fare con la sicurezza pubblica quando accadono episodi come quello di venerdì scorso, e lo ricordiamo, è il secondo in pochi anni, perché nel 2013, dicembre 2013, già la Santarella era andata a fuoco. Cercheremo quindi di capire cos'è cambiato, perché in realtà questo incendio può avere cambiato anche le carte in tavola per il futuro di questo edificio, che è l'unica parte rimasta in piedi dell'ex fabbrica Ticosa, e cercheremo di capire qual è il futuro che può essere disegnato per quest'area. E lo faremo innanzitutto con un esponente dell'amministrazione comunale di Como. Lo facciamo con l'assessore Marcello Jantorno, assessore al patrimonio del Comune di Como. Assessore, buonasera, benvenuto. Prego, mi faccio accomodare qua. Due parole rapidissime. Più volte si è detto come la credibilità dell'amministrazione attuale passasse dai grandi temi risolti della precedente amministrazione. Paratie e Ticosa, sui quali però, ahimè, ancora state lavorando, per usare un eufemismo. Evidentemente erano problemi di tale complessità che non è stato sufficiente il periodo di tempo che è trascorso dal nostro insediamento fino ad ora, ma ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando seriamente. Abbiamo visto le immagini di quell'incendio che di fatto ha rischiato di distruggere, ma comunque ha pesantemente compromesso gli interni dell'edificio Santarella. Dicevamo che è un problema anche amministrativo perché a voi spetta, quell'area è di proprietà del Comune e a voi spetta il compito di chiuderne gli accessi. Impresa non facile perché un'area così vasta è un colabrodo. Però la responsabilità poi di conseguenza è vostra, qualsiasi cosa accada. Ma questa è la situazione che non è unica a Como, ma è diffusa in tutto il paese, e non soltanto in Italia ma anche in paesi europei, laddove in presenza di situazioni drammatiche di carattere personale e di carattere sociale, allora quando immobili chiusi, non utilizzati, sia pure magari chiuse, cioè assicurate l'impossibilità di accedervi, evidentemente la disperazione consente magari l'accesso. Quindi sono accadimenti che purtroppo non dovrebbero accadere ma che accadono. Noi poi, come dirò nel corso della trasmissione, l'amministrazione, poi vedremo le varie fasi, e naturalmente la sua parte l'ha fatta la presenza di persone che in situazioni di freddo, di temperatura, eccetera, era una situazione che evidentemente, nonostante i tentativi di fatto, anche dalle forze di polizia, di evitarlo. Perché avete fatto già sgomberi nella zona. Certamente, ma lei come sa il Comune di Como, l'amministrazione si è adoperata per sgomberare anche in situazioni di immobili occupate, da abusivi. Eppure è una sorta di battaglia che non ha termine. E' accaduto quello che assolutamente non avrebbe dovuto succedere, è successo, per fortuna non ha recato danni. Non ci sono feriti, diciamo. Esattamente, quindi questa è una cosa fondamentale. E poi, come dirò nel corso della trasmissione, naturalmente noi ci stiamo adoperando per assicurare l'impossibilità di accedere, ma un'impossibilità che va misurata nella pratica della situazione. Possiamo dire che è virtuale l'impossibilità di non accedere, perché di fatto poi, in un'area così abbandonata, può dire lei che è impossibile blindarla? No, io dico, noi l'abbiamo blindata e se lei la va a vedere anche questa sera la troverà chiusa in tutte le sue possibilità di accesso. Però come si fa a dire che è impossibile accedervi? Perché se è sufficiente tagliare una rete, magari alle due di notte, alle tre di notte, per accedervi, qualcuno magari si può inserire. La questura, per esempio, è a 30-40 metri di fronte, quindi è una situazione che all'interno della città è una situazione sorvegliata, eppure, diciamo, qualche persona vi dormiva, vi accedeva e si soffermava nell'immobile. Ecco, quindi questa è la situazione attuale di emergenza, se così vogliamo chiamarla, ma più tardi parleremo, ed è poi il nucleo della nostra trasmissione questa sera, delle prospettive future, perché a Icomaschi interessa capire soprattutto cosa accadrà in quell'edificio, cosa diventerà quell'edificio, ne parliamo tra poco. Passiamo a presentare il prossimo ospite, che è un architetto, oltre a essere un architetto, è stato fino al 2015 soprintendente dei beni architettonici per la Lombardia. Sotto la sua giurisdizione, l'edificio Santarella, e non solo a Como, venne tutelato. La soprintendenza decise di tutelarlo, e chiederemo a lui qual è l'importanza, qual è il valore architettonico e storico di questo edificio che rischiava in parte di andare distrutto venerdì scorso. Do il benvenuto all'architetto Alberto Artioli. Buonasera, grazie per essere qua. Grazie. Architetto, mi correga se sbaglio, noi l'abbiamo introdotta come il soprintendente che decise di vincolare il Santarella. Sì, è... Sotto la sua giurisdizione la soprintendenza disse attenzione, quella parte di Ticosa non va abbattuta, quella parte va mantenuta. Perché? Beh, sostanzialmente per due motivi. Motivo storico, perché è la parte più qualificata appunto dell'area della Ticosa, che ha rappresentato per la città di Como un periodo, diciamo così, un complesso collegato direttamente con la vita sociale, economica della città. Quindi distruggere ogni sua testimonianza sembrava da un punto di vista storico sbagliato. L'altro motivo è di carattere prettamente architettonico. È una struttura di particolare, anche se industriale, comunque di particolare qualità architettonica. È ricordata col nome di Santarella. Santarella è un... noi architetti ingegneri lo conosciamo perché diciamo è un tomo, è un compendio di strutture di cemento armato molto famosa, ma in realtà non l'ha progettata l'ingegner Santarella, autore di questo libro, ma l'ingegner Santarella lo cita nel suo libro come una testimonianza qualificata di cemento armato. Ecco perché ha preso il nome del Santarella. Ecco, queste le due motivazioni sono quindi di carattere prettamente storico e anche di carattere architettonico. Quindi carattere tecnico, così possiamo chiamarlo, e culturale per ciò che era rappresentato per la città di Como. Una Como industriale che fu? Una Como industriale che fu, che però, così come in tante altre città lombarde, ci sono questi centri che purtroppo ora sono, molto spesso sono abbandonati, però hanno rappresentato per un periodo, per un lungo periodo, per generazioni, lavoro, rapporti sociali, economici, quindi è una testimonianza che almeno in parte, a nostro parere, doveva essere conservata. C'erano altri edifici che avevano anche interessanti, tipo gli shed, però ovviamente responsabilmente... gli shed erano quei corpi particolari dell'aticosa... Esatto, dove l'attività appunto si svolgeva industriale, erano anche da quel punto di vista come archeologia industriale, erano sicuramente interessanti, però responsabilmente, la subintendenza ha decisa appunto di lasciare, ovviamente non si possono conservare milioni e milioni di metri cubi di aree dismesse, con tutti i problemi anche sociali, economici che ci sono. Ne abbiamo appena visto le conseguenze. Però responsabilmente una testimonianza di questo periodo storico, oltretutto qualificata architettoricamente, sembrava, e credo che sia stato giusto conservarla. Chiaro, quindi queste sono le motivazioni, poi a lei chiederemo anche come pensa che debba essere recuperata questa struttura, vista la sua storia, visto... Tema non facile. Tema non facile. Abbiamo un'ora e mezza, a grosso modo, cercheremo di approfondire tutti i vari aspetti. Anche l'aspetto politico, perché l'assessorio di Antonio rappresenta il governo della città e il prossimo ospite ne rappresenta in qualche modo l'opposizione ed è forse uno dei consiglieri che più si sono battuti sul tema Ticosa e anche si sono scontrati con l'amministrazione. Do il benvenuto, o meglio, il bentornato negli studi di Nessun Dorma al consigliere del Movimento 5 Stelle, consigliere comunale di Como, Luca Cerutti. Cerutti, grazie. Buonasera. Dicevamo, lei è tra i membri più attivi del Consiglio, dell'opposizione, sul tema Ticosa, che vi è sempre stato particolarmente caro. Addirittura avete fatto delle ricognizioni, forse con un drone sopra l'area Ticosa, quando volevate proporre, quando avete proposto, e poi anche questo verrà affrontato nel corso della puntata, la restituzione alla città temporanea, almeno in termini di posteggio di quell'area, però, come dicevamo, la Ticosa è nelle vostre corde e avete spesso contestato l'operato dell'amministrazione sul tema. Certo, perché la Ticosa è un biglietto da visita quando si entra in convalle, comunque la viabilità porta davanti a questo scempio che è un buco a cielo aperto dove abbiamo allevato delle carpe, dove ci sono vari insetti che tutte le estati ripopolano la zona. Sul Santarella nello specifico, l'anno scorso, a giugno, abbiamo visionato le baracche che sono nate intorno al Santarella abbiamo detto ma siamo consapevoli di quello che sta succedendo perché non è più neanche un andare a dormire come diceva l'assessore o cercare riparo dal freddo, vivono dentro Santarella, tutti lo sanno e nessuno interviene. È passato un anno, è successo quello che è successo adesso, poteva essere molto più grave perché chi vive, perché vivono all'interno del Santarella ha anche la possibilità di accendere i fuochi. Quindi non è un riparo, è proprio una... È un luogo dove si vive, ci sono bombole di propano, butano per fare il riscaldamento, noi ci siamo interrogati sul fatto che da una parte i servizi sociali non sono intervenuti per dare un luogo adatto e adeguato a chi vive. Per dare una risposta a questa emergenza sociale. Come assessorato all'ambiente, quindi anche il fatto di essere qui e adesso discuteremo con l'assessore di Antonio sono un po' stupito perché non c'è l'assessore mi aspettavo di incontrare sul tema l'assessore all'ambiente, l'assessore ai servizi sociali, l'assessore alla urbanistica. I posti sono quattro, abbiamo dovuto invitare solo la giunta e poi non potevamo andare. Spero che non ci sia un rimbalzo tra i vari assessorati. Spero che si possa affrontare... Credo che l'assessore di Antonio questa sera possa riassumere le posizioni della giunta. Si possa affrontare nel modo migliore il tema. C'è chi ci vive e poi anche il fatto che non ci sia acqua corrente chi vive all'interno non ha il minimo dell'igiene possibile è incredibile. Quindi una situazione borderline diciamo borderline per utilizzare un eufemismo sulla quale voi attribuite una responsabilità precisa all'amministrazione. Assolutamente sì. Poi capiremo anche perché siete andati fino in procura per cercare di accertare queste responsabilità. Il prossimo ospite è invece un esponente della cosiddetta società civile e rappresentante di una categoria la categoria dei commercianti. commercianti che ovviamente avrebbero solo beneficio dalla ricostruzione del quartiere Ticosa e in particolare i commercianti che gravitano attorno alla zona di Via Grandi e quindi Via Milano Alta. Lui tra l'altro oltre a essere presidente di Confeser Centicomo è anche un commerciante proprio di questa zona. Do il benvenuto a Claudio Casartelli. Casartelli, buonasera. Grazie per essere qui. Giro di saluti. Quindi lei rappresenta i commercianti ma anche diciamo un interesse diretto affinché quella zona venga recuperata da commercianti della zona. Sì, soprattutto la vivo e la vivo ormai da 16 anni e ho visto un degrado di questa zona quando ho aperto l'ufficio dell'Agenzia Immobiliare in Via Milano Alta direi che il 95% dei negozi presenti erano negozi aperti a conduzione prettamente italiana. Oggi è una zona dove il 60% dei negozi sono chiusi ed il restante 40% la maggioranza sono di negozi etnici quindi con prodotti etnici. È una zona che apparentemente è degradata è degradata sotto il profilo commerciale sotto il profilo residenziale tiene ancora sicuramente noi speravamo in un recupero della Ticosa per riqualificare tutto quel comparto che non è solo il comparto della Via Milano Alta ma è tutto il comparto del San Rocco di Via Alciato di Accadorna e adesso comincia a essere interessata anche la Via Milano Bassa che comincia a sentire gli effetti della chiusura delle attività commerciali. Quindi gli effetti negativi si espandono si espandono e vanno a toccare anche con le zone più uno delle accuse che abbiamo sempre mosso a questa amministrazione di Antorno prima ha detto che il problema è grosso probabilmente 4 anni non sono stati sufficienti lo si sapeva che il problema era grosso e noi abbiamo sempre mosso forti critere sul fatto che sia stato chiuso il parcheggio si poteva il parcheggio tenere aperto si poteva rintegrare ricordiamo che nell'ultima fase almeno 500 e 600 auto potevano posteggiare però era importantissimo era un polmone vitale di sosta che favoriva i flussi delle persone verso il centro oggi flussi che non ci sono più e questi flussi portavano un po' di vitalità anche alle attività che ci sono in zona e in un certo modo creavano anche un po' di interesse residenziale che oggi viene stato un po' a scemare e questo è un gravissimo errore si sono sempre trinciati sul fatto che c'era un preliminare ma giuridicamente un preliminare finché non si arriva a rogito la proprietà può gestire l'area come meglio crede ci si poteva investire due soldi a ricreare il parcheggio si sarebbe ripagato e avremo risolto molti problemi che la città ha sotto il profilo dei parcheggi anche per i pendolari li parcheggiavano tutti i pendolari che scendevano in centro forse si sperava di una soluzione della Ferticosa soluzione che ahimè in questo momento siamo ancora un po' lontana però poi toccherà l'assessoria intorno a aggiornarci anche su Litter perché credo ci siano anche dei passaggi a breve importanti quindi chiederemo contro lei un istante di pubblicità e poi torniamo sempre per parlare della Ferticosa a tra poco Nessun dorma riflettori puntati questa sera sull'area Ticosa dopo quanto accaduto venerdì scorso venerdì scorso nell'edificio Santarella l'unico rimasto in piedi dopo gli abbattimenti nell'area ex Ticosa è scoppiato un incendio quindi andiamo a ripercorrere quanto accaduto col prossimo servizio un incendio furioso a due passi dal centro città fiamme alte oltre 10 metri una colonna di fumo visibile da lontano venerdì scorso l'edificio Santarella si è trasformato in un inferno il rogo è divampato all'interno dell'ex centrale termica in pochi minuti e per un soffio non si è consumata una tragedia all'interno della struttura infatti dormiva una ventina di senza tetto persone che sono letteralmente scappate dalle fiamme per mettersi in salvo i vigili del fuoco hanno lavorato oltre due ore per domare l'incendio e tutto il pomeriggio per spegnere bracci e focolai che rischiavano di riaccendere il rogo l'emergenza è passata i problemi no il primo è di natura politica il Santarella doveva essere recuperato grazie alla costruzione del nuovo quartiere Ticosa l'ex Tinto Stamperia è stata abbattuta nel 2007 tra iter complessi e bonifiche infinite non un solo mattone del nuovo quartiere è stato ancora posato il secondo problema è di natura amministrativa un'area dismessa in centro città aperta alla merce di chiunque e senza controlli presenta inevitabilmente dei rischi l'incendio di venerdì tra l'altro è l'episodio più grave ma non l'unico già nel dicembre 2013 infatti l'interno del Santarella era andato a fuoco Allora subito le conseguenze dell'incendio vi vado a leggere ciò che il comune di Como ha ufficialmente riferito dopo il sopralluogo che è stato effettuato venerdì l'incendio lunedì il secondo sopralluogo quello un po' più approfondito da un primo esame le strutture interne risultano pesantemente danneggiate in particolare per quanto riguarda una piccola soletta laterocementizia scusate che è stata intaccata dalle fiamme ma non è tutto perché per valutare quanto le strutture in cemento armato e acciaio siano state compromesse serviranno ulteriori approfondimenti che saranno effettuati nel corso dei prossimi giorni servirà sicuramente anche un intervento di bonifica per rimuovere tutti i materiali andati a fuoco in sostanza gli interni sono devastati da questo incendio e potrebbero esserci anche danni nelle strutture portanti della Santarella subito un parere tecnico l'architetto Artioli ha visto anche se ovviamente non era fortuna sua sul luogo dell'incendio però ha visto le immagini un incendio importante che ha coinvolto tutta la struttura saranno effettuati delle nuove indagini però quali danni potrebbe aver riportato questa una struttura simile con un incendio simile peraltro secondo nel giro di tre anni ma guardi è difficile onestamente dirlo così come la perizia che è stata fatta una prima perizia sicuramente sono stati comportati dei danni dire che irrecuperabile questo mi sembra un po' forse eccessivo così detto ripeto senza nessun dato chiaramente avrà avuto dei danni probabilmente il cemento il cemento può a causa delle forti temperature può compromettere si può compromettere può perdere parte delle sue qualità io credo che comunque ci siano possibilità di recuperarlo magari quella soletta che parlava forse dovrà essere demolita però potrebbero essere comunque anche se ha subito dei danni degli interventi di consolidamento come normalmente si fanno certo la cosa fondamentale è fare uno studio approfondito della struttura che è già ovviamente degradata dagli anni di abbandono per cui un certo degrado presumibilmente sarà entrata in tutti questi anni dell'acqua che ha già compromesso intaccato in più questo incendio certo non l'ha fatto bene bisogna fare uno studio io non credo ripeto lo dico così senza conoscere nessun dato abbraccio come si può dire abbraccio senza aver fatto sopralluoghi però non mi sembra così come alcune voci ho sentito catastrofiche che addirittura sia irrecuperabile da demolire quindi secondo lei penso che comunque anche se i danni sicuramente li ha subiti anche strutturalmente ci siano degli interventi spero certo è un aggravio in più economico ma comunque per opere di consolidamento ecco dopo poche ore dopo l'incendio ho parlato con il comandante vigile del fuoco di Como Mario Batte che era proprio intervenuto per spegnere le fiamme e lui diceva ha preso una grande scaldata l'edificio quindi effettivamente potrebbe aver subito conseguenze però confermava la grande bontà di costruzione mi passi il termine così confermava una grande solidità una grande un'architettura molto solida forse perché l'edificio come dicevamo è stato anche preso d'esempio nei manuali si è stato preso d'esempio poi erano i primi esempi di cemento armato e quindi probabilmente erano anche strutture sovradimensionate rispetto quindi sovradimensionate come strutture quindi penso sulla solidità nulla da ripeto sempre come dicevamo prima abbraccio ma comunque anche se ci sono stati gli interventi ci sono degli interventi migliorativi gli interventi di consolidamento che si possono attuare per rimettere in sicurezza per preservare diciamo l'integrità strutturale magari demolendo alcune parti ormai recuperabili ma la struttura in genere mi sembra possa essere recuperata perfetto queste sono sicuramente buone notizie anche se lo ribadiamo lei ci sta dando un'impressione un'impressione rispetto a quanto conosce l'edificio è quello che ha visto non voglio contestare assolutamente l'analisi che è stata fatta più approfondita voglio passare invece a Ceruti per un commento più politico Ceruti forse il giorno stesso voi avete bussato la porta della procura proprio il venerdì dell'incendio ci vuole spiegare perché e alle sue affermazioni chiediamo poi una replica a Jantorno è chiaro che tutti sapevano nessuno ha agito questo è assolutamente eclatante sotto gli occhi di tutti ci sono fotografie fatte sia da Espansione TV sia dal giornale della provincia che inquadrano le stesse costruzioni gli stessi interni che c'erano un anno fa da allora non si è fatto nulla si è parlato di tantissimi disgomberi fatti sia dalla questura sia dal comune di Como ma di fatto tutto quello che c'era allora c'era anche adesso quindi la denuncia parte proprio dal fatto che non c'è stata nessuna attività da parte dell'amministrazione che si è girata dall'altra parte e non è intervenuta sul tema è scoppiato un incendio è scoppiato qualcosa che poteva essere gravissimo sia per gli occupanti ma anche per la stessa città perché se ci fosse stata la possibilità di incendiare una delle bombole presenti Santarella per quanto solito per quanto una costruzione che ha cent'anni che ha già subito un incendio poteva anche venire giù e coprire il viale d'innocenzo con tutta la fattezza della struttura quindi abbiamo chiesto alla procura di signori le cose si sapevano le sapevano le abbiamo denunciate in aula niente è stato fatto se avete bisogno di quindi per un accertamento di responsabilità assolutamente non solo politica ma anche proprio amministrativa allora fra poco la risposta dell'assessore di Antonio prima già una telefonata perché nel frattempo abbiamo aperto i contatti li vedete in sovraimpressione in linea abbiamo Silvio Dalbate Silvio Silvio buonasera di Capur buonasera conduttore buonasera a Luca che lo conosco e buonasera agli altri signori ecco un consiglio veloce questa Santarella tiriamola giù prima che ci porti a costi enormi costi di manutenzione che poi è anche abbastanza schifosa quella roba di cosa serve è vincolata Silvio è vincolata ma quale vincolata tiratevi da due bombe e fatela andare giù ma stiamo scherzando ma sarà un costo sociale ma cosa ce ne facciamo di quella porcata lì eh capì ma vincolata non vincolata hai capito? è un consiglio al di là del vincolo dice bisogna bisogna abbatterla non si può fare però raccogliamo la sua idea il problema se no diventerà come tutta la Ticosa come il lago anni e anni di soldi sciupati basta con queste schifezze io abito in periferia curiamo un po' di più le periferie basta stati cose le vostre grazie Silvio per il suo intervento buonasera allora colorito l'intervento di Silvio però in qualche modo fa capire come lungo l'aguiti cosa siano i problemi più sentiti della nazione di Fomo il rischio c'è di fare un mezzo lavoro abbiamo l'esempio del mercato coperto l'area escorossisti dove sono stati spesi in ingenti somme svariati milioni di euro per ristrutturarlo una ristrutturazione che ha raggiunto poco più del 50% e oggi è quasi inutilizzabile perché non si riesce a completarla quindi il rischio che anche in questa struttura dove magari si investe qualche milione di euro per metterla in sicurezza e per dargli una sembianza di utilizzabilità poi dopo non si riesca a completare e resti lì ancora per decenni e decenni con tutti poi i problemi che ne conseguono e con l'evidente rabbia dei cittadini che poi hanno contribuito il rischio che diventi un problema grosso c'è sicuramente poi sulla tutela c'è da chiarire anche il fatto che si è sotto tutela Santarella come lo era la Trevitex se c'è la volontà di fare qualcosa di migliorativo per l'area si possono fare delle scelte che vanno anche oltre la tutela la Trevitex è stata battuta non era vincolato però lì all'ex FISAC no è certo però era un edificio che comunque si è parlato tanto che ricordava ma non c'era il vincolo che ricordava al di là del vincolo mi sembra anche però vorrei dire una cosa il problema non è tanto io credo così come l'ascoltatore telespettatore segnalava non è il Santarella è il problema più ampio della Ticosa allora io racconto un episodio quando abbiamo fatto questo vincolo nel 2005 venne nel mio ufficio l'allora sindaco Bruni con l'assessore credo fosse all'urbanistica Sant'Angelo che non c'è più e erano molto preoccupati vennero a dire guardi che se fa questo vincolo finalmente dopo 40 anni siamo riusciti a partire con questa società con il recupero questo vincolo potrebbe far cadere tutto il castello e quindi erano molto preoccupati di questo vincolo in realtà poi il vincolo comunque è stato fatto e devo dire che il problema diciamo il progetto si è fermato non certo per la presenza di questo edificio perché poi è andato avanti i problemi sono stati ben altri cioè in una ristrutturazione generale io non entro nel merito urbanistico perché non è mia competenza però in una riqualificazione generale dove ovviamente la società che interviene ha dei suoi utili io credo che fosse avrebbe potuto investire parte di questi utili in questa in questa struttura quindi non va valutata certo valutare adesso questa struttura lì abbandonata è un costo ma rivalutando tutto il comparto e mi sembra e la dimostrazione mi sembra che diciamo il naufragio di questo spero che poi vada avanti di questo progetto iniziale non sia dovuto alla presenza del Santarella ma a circostanze ben più ben più ampie e poi cerchiamo di capire anche quale sarà quale sarà questa ipotetica ancora di salvezza l'ha detto naufragio fino adesso è stato sicuramente un naufragio c'è una piccola speranza vedremo come verrà utilizzata voglio chiedere all'assessore Jantoro una replica Ceruti Ceruti ha detto noi abbiamo presentato un esposto in procura perché il comune l'amministrazione sapeva e non ha fatto nulla o non ha fatto abbastanza è corretto ora però io non è che vorrei esagerare della mia competenza professionale però io pensavo come l'ha rappresentata vorrei chiedere al congegno di Ceruti se a quale procura l'ha rappresentata procura della della Repubblica della Repubblica per quale tipo di reato scusi perché posso rispondere omissione di atti prego omissione di atti di atti di controllo sicurezza pubblica chi è responsabile sindaco scusi lei presenta un esposto alla Produta della Repubblica addirittura contro l'amministrazione quindi non è una cosa da niente per un illecito che non so quale sia e se mi indica qual è la legge l'articolo il codice che identifica queste ipotesi così posso rispondere no no certo però le chiediamo quindi allora l'avvocato di Antonio potrà rispondere benissimo alla procura non a un singolo cittadino che va a segnalare un problema è chiaro per come l'ha rappresentata è evidente che è un'azione politica ed è evidente la sua presenza e tale resta e tale resta perché se qualcuno ti entra in casa e ti viene a derubare non è che viene denunciato naturalmente il proprietario di casa no viene denunciato il ladro che entra in casa evidentemente e dato che per le ipotesi che vengono fatte dagli operanti come si dice che può darsi che mi faccia fare l'avvocato del diavolo però se io le lascio la macchina la mia macchina e lei con la mia automobile combina qualche pasticcio io passo dei guai per incauto affidamento giusto? ma voglio dire il comune è il proprietario dell'immobile il comune non è stato il comune ad appiccare il fuoco evidentemente salvo che non si dica che qualche l'ha messo in sicurezza l'immobile che qualche amministratore probabilmente mi scusi ma l'ha messo in sicurezza se mi fa parlare mi faccia parlare se mi fa parlare abbiamo un'ora e mezza c'è il telespettatore così ce ne diamo conto allora se diciamo il fuoco non è stato accidentale per la presenza di persone che stavano lì ma è stato doloso come qualcuno ha ipotizzato la polizia di stato e non soltanto stanno facendo le indagini hanno identificato delle persone potrebbero anche arrivare a identificare queste persone detto questo quindi se il suo esposto è diretto per verificare chi è stato ad accendere il fuoco e chi è responsabile del giusto che venga punito ha fatto bene altrettanto ha fatto il comune o farà l'avvocatura del comune per denunciare gli autori di questo illecito detto questo non si ravvi permette un'incisa permette un'inciso al di là della questione strettamente giuridica capisco deformazione professionale l'ha avvocato e quindi vuole essere e formazione vuole essere preciso sul punto però la domanda diciamo più politica era secondo Movimento 5 Stelle non avete controllato a sufficienza un'area che era nelle vostre disponibilità quindi al di là diciamo della su questo posso rispondere tranquillamente su questo giuridico su questo rispondo tranquillamente giusto ma è per carità io fa l'opposizione come l'abbiamo fatto noi e noi apprezziamo quando l'azione di opposizione viene fatta perché sono anche solleciti allora riguardo a queste impostazioni io dico che sostanzialmente non la condivido in basso a quale elementi a questi elementi il primo elemento è che il cantiere fino a pochissime settimane fa tutta la zona è stata in mano a coloro di qua l'hanno portato avanti la bonifica io ho qui il documento e posso anche mostrarlo laddove appunto quella zona quel terreno tutta quella zona è stata consegnata a soggetti professionali che da anno hanno portato avanti questo tipo di lavoro numero uno quindi se di custodia si deve parlare evidentemente c'erano dei soggetti che avevano questo titolo prima numero uno numero due prima però dell'incendio questo prima dell'incendio è evidente prima dell'incendio chiaro numero due questo da anni perché la bonifica sta andando avanti dall'agosto diciamo al momento dell'incendio dall'agosto le chiavi dell'area erano vostre secondo cosa se noi andiamo a vedere le interviste che sono state fatte anche da responsabile della piccale delle forze dell'ordine e che tutti noi conosciamo che peraltro hanno anche gli uffici prospicenti alla Santarella era una situazione assolutamente nota a tutti coloro i quali sono tenuti anche al controllo di situazioni particolari quindi voglio dire per ragioni che abbiamo già detto perché io potrei fare un elenco degli immobili pubblici e privati che purtroppo vengono occupati e donati come sappiamo possiamo dire tante zone della città sulle quali anche come assessore alla legalità spesso sono intervenuto la custodia come è stata attuata dopo la consegna del bene è stata attuata io so perché mi sono informato anche con le forze di polizia locale dove ci sono stati degli accessi che verranno sicuramente incrementati proprio da stasera perché noi abbiamo una pattuglia notturna dove farà i passaggi almeno due passaggi anche di notte si coordinerà anche con le forze di polizia perché tutto questo venga incrementato per cui nei limiti ovviamente del possibile si eviti l'accadere di cose simili inoltre ancora aggiungo che è stata rafforzata tutto il sistema di chiusura come lei può verificare è altrettanto verrà fatto ed ultimato verrà rafforzato nei prossimi giorni ma già questo lavoro è stato fatto tutti gli accessi sono stati chiusi e questo qui è stato fatto con riferimento poi all'altra questione che io credo importante io sui temi della sicurezza assolutamente noi ci siamo al 100% al 200% e per cui anche le cautele che si pongono in atto naturalmente probabilmente non sono mai sufficienti al 100% quindi più si fa e meglio è con riferimento voglio dare invece una comunicazione anche di conferma quello che diceva l'architetto Artioli prima dagli accertamenti anche ultimi se vogliamo anche di ieri e di oggi quello che ipotizza l'architetto Artioli nell'ambito della sua competenza nella sostanza viene confermato anche se naturalmente cioè la tenuta in sostanza esattamente bravo viene confermata e anche se resta da verificare un'ultima diciamo circostanza io non sono un ingegnere o un architetto ma è limitata nel compenso quindi la tenuta della struttura resta quindi non ci sono danni diciamo irreversibili o irreparabili esatto e inoltre aggiungo è stata fatta comunicazione anche alla compagnia di assicurazione che assicura le conseguenze economiche di quello che è avvenuto per cui anche gli accertamenti tecnici e i costi per gli accertamenti tecnici e i costi anche per le eventuali riparazioni saranno posti a carico dell'ente assicurazione per cui l'amministrazione nella sostanza non avrà conseguenze negative quindi questa è una notizia di fatto questo incendio al comune le dice costerà zero non mi faccia dire zero o uno voglio dire io dico che dato che c'è un'assicurazione io mi sono informato perché altrimenti non aveva fatto la dichiarazione per quanto riguarda l'oggetto dell'assicurazione vi rientro anche questo episodio quindi da questo punto di vista voglio dare una comunicazione rassicurante che spero che anche il consigliere Ceruti nell'ambito della sua responsabilità di avere le legittime critiche che ci può fare questo che parliamo di una parte della città importante non incrementiamo diciamo preoccupazione dei cittadini inesistente era questo il messaggio mi sembra che ci sono queste situazioni siano situazioni tollerate perché non c'è una soluzione quindi si sa che queste persone sono la loro quando poi succedono questi episodi ci si sveglia ma la colpa non è mai di nessuno la realtà è che ci sono parecchi edifici che sono occupati perché oggi parliamo della Santarella però mi dicono nella zona della stazione ci sia un problema similare mi dicono che c'è un problema similare nella zona di via Tommaso Grossi quindi c'è comunque un gruppo possiamo e altro c'è un gruppo di persone che io non sono così convinto che siano tutti disperati io non dico che sono certo ma è molto plausibile che molte di quelle persone sono persone che lavorano e hanno un lavoro ma non riescono a trovare un alloggio qui oggi siamo al paradosso che un profugo viene ospitato perché viene ospitato gli si dà un letto gli si dà da mangiare quindi con del comfort e ci sono in giro delle persone che non riescono a trovare una collocazione abitativa ma magari lavorano che sono costretti ad andare a dormire in questi posti se non a prendere locali in subaffitto perché i loro connazionali glieli subaffittano i fenomeni sono mi scusi se i fenomeni sono questi quindi dobbiamo trovare una soluzione io sono anche assessore alla casa e al patrimonio conosco perfettamente queste situazioni e lei ha ragione dove abbiamo una situazione sociale che non riguarda soltanto gli extracomunitari ma anche gli italiani che per la crisi crisi familiari crisi economica si trovano in quel limbo di situazioni che non riescono ad avere nella casa A nella casa B o addirittura neanche le case popolari per dire perché non hanno neanche quel minimo necessario per accedervi e quindi non basta dire andiamo muriamo e chiudiamo perché quelle persone c'è una pressione sociale che si sposta da un'altra parte magari for un mese siamo qui a parlare dell'incendio di un altro posto lo diceva Papa Francesco oggi guardi in occasione anche di un incontro internazionale che ha avuto a Roma verso queste situazioni per potesia di avere sicuramente la massima attenzione rispetto della loro dignità nella quale personalmente tutti noi siamo pienamente impegnati ma è evidente che è uno sforzo così forte che non è sufficiente che gli antorno o altri pochi si alloprono in questo senso se non c'è una sensibilità è un atteggiamento di tutta la società questo è fuori dubbio e credo che almeno in questo consenso la sensibilità non è tollerandole che si trova una soluzione perché stiamo tollerando lei ha detto bene ci sono situazioni che i servizi sociali mi hanno riferito anche oggi che ci sono al di là anche della povertà sociale situazioni di diciamo di crisi personale di persone che per problematiche psicologiche loro tutti sforzi enormemente noi i bagatti per dare un appartamento dal punto di vista sociale lo rifiutano perché preferiscono guarda qua proprio andare a dormire lì proprio andare lì conosciamo pure ma sai quanti sforzi ha fatto anche Roberto Bernasconi della Caritas per dirle ma vieni con noi ti accompagniamo niente da fare ceruti escono e poi ritornano scavano un po' di terra tirano fuori la rete e si infilano questa è la realtà allora sai quale sarebbe la soluzione alla ceruti mettiamo l'esercito intorno ma semplicemente metterlo in sicurezza l'esposto è proprio questo la sicurezza mettiamo mille soldati intorno e stai sicuro li mettiamo adesso che è stato incendiato non c'è dentro di nessuno è un tema caro a noi la preoccupazione nostra come si dice le mucche scappano le vacche scappano e chiudiamo la stalla la preoccupazione è no ceruti io vengo dall'opposizione più di quanto tu la possa fare ora e la mia preoccupazione è maggiore della tua stai sicuro noi lavoriamo 1.000 tipo all'albergo di Via Volta per ospitare che il progetto è naufragato perché non siamo in grado di dare una scelta sulla cosa l'albergo di Via Volta quel progetto non è il suo settore lo sapevano io ti ringrazio che mi fai dei massi con un assessore sbagliato io ti ringrazio allora dopo ci troviamo no volevo solo dirle una cosa l'esposto sa perché cos'era? negligenza l'esposto che abbiamo fatto in procura e se il suvieto è un maso grosso nessuno interviene la negligenza in Italia per fortuna non è un reato perché sennò qui arresteremo 45 giorni tantissimi politici magari del PD come capita spesso vero assessore 8 su 9 allora abbiamo una mail abbiamo una mail una mail di Marcello una mail di Marcello che intervene proprio sul tema delle colpe delle responsabilità allora no Marcello non lei non lo ho visto a scrivere almeno allora Marcello dice aveva ragione Monsignor Maggiolini ricorderete che Monsignor Maggiolini era presente alla cerimonia dell'abbattimento dell'abbattimento del 2007 esatto il compianto del Monsignor Maggiolini io sono un vescovo dimesso diceva ma quest'area finirà nel degrado nel degrado queste erano le parole di Maggiolini puntuale ma se l'area è degradata con abusivismo di ogni genere si può sapere chiede Marcello di chi è la colpa il nostro stato di diritto è morto e sepolto in Italia tutti possono fare quello che vogliono per me ha ragione dice il Movimento 5 Stelle perché quella zona è una cloaca a cielo aperto quindi Marcello chiede una responsabilità sul tema guarda io avrei bisogno veramente di ore ma non l'ho questo tempo a disposizione vediamo se riesco ad essere sintetico come loro sanno ricordava prima l'architetto che questa vicenda nasce nel 2006 con un contratto praticamente nasce con alcune anomalie e debolezze siamo partiti però da un po' lontano ma io voglio essere sintetico parte con anomalie e debolezze che si sono trascinate negli anni e non si è mai pervenuto per responsabilità da accertare a una conclusione dell'operazione benissimo quando parte la bonifica addirittura il piano di bonifica addirittura del 2008 le operazioni di bonifica sono partite nel 2012 e l'allora esperto anche lo stesso POB pensava che ci fosse poco da bonificare a distanza di 4 anni ancora non è ultimata manca poco ci sono spesi quasi 4 milioni e bezzo e forse bisogna spendere altre 2 solo di bonifica perfetto ora per dire siamo forse arrivati spero a un punto spero perché noi abbiamo e proprio di questi giorni è stato investito l'agenzia delle entrate con una delibera di giunta che verrà votata mercoledì prossimo perché faccia una perizia del terreno una perizia una stima del bene del valore fatta la stima perché noi abbiamo ricevuto una proposta da molti sia per quanto riguarda il progetto sia per quanto riguarda gli aspetti economici a seguito di quella stima che sarà fatta entro i 90 giorni dopodiché l'amministrazione compresa anche il consiglio comunale sarà chiamata a prendere una posizione se si arriva se si arriva a una conclusione nel giro di pochi mesi allora l'operazione può partire con la medesima società che è stata giudicata altrimenti si riparte però del futuro ne parliamo tra poco Casaretta un po' più breve quell'area lì oggi alle casse del comune costa circa 10 milioni di euro non andiamo a conteggiare probabilmente gli interessi e quant'altro oggi una multine offre 6 7 comunque offre meno di quello che il comune ha pagato che gli costa quest'area quindi il fatto è che non c'è una soluzione cioè non si riesce abbiamo la proposta multidi o il comune si prende carico di vincere dell'area rimettendoci 3 milioni di euro oppure il multidi dice pagatemi la penale sul preliminare che ho fatto guardi le dico una cosa ma un secondo scusate prego poi dobbiamo andare in velocità quindi le do 10 secondi 10 secondi allora lanciamo velocità e poi traiamo perché proprio il prossimo blocco è dedicato al futuro dell'area e parleremo di ciò che in Ticosa ci sarà o dovrebbe esserci si spera non trae regiologiche a tra poco mi piace rispondere alla domanda nessun dorma come dicevamo riflettori accesi sulla Ticosa dopo l'incendio del venerdì scorso stiamo parlando abbiamo iniziato a parlare proprio del futuro di quest'area subito i contatti vi vedete in sovraimpressione 031-3300-655 per telefonarci in diretto oppure un messaggio whatsapp al 335-70-84-396 o ancora una mail a nessundorma at espansionetv.it abbiamo parlato dell'emergenza quindi di quanto accaduto venerdì scorso adesso vogliamo parlare del futuro dell'area già avevamo iniziato a farlo pochi minuti fa introduciamo quindi questo blocco con l'aiuto del prossimo servizio che ci dà idea di cosa potrebbe accadere in Santarella e in Ticosa vediamo Santarella la centrale termica dell'ex tinto stamperia Ticosa di Como in Viale Roosevelt è l'unica parte dell'ex opificio sopravvissuta alla demolizione l'edificio opera dell'ingegner Luigi Santarella da cui prende il nome rappresenta una sorta di monumento della moderna tecnica delle costruzioni in calcestruzzo e soprattutto è tutelato può diventare un museo della luce in onore al fisico inventore della pila Alessandro Volta ma può anche diventare una struttura utile per l'università degli studi dell'Insubria l'Ateneo di via Sant'Abbondio è interessato a quest'ipotesi e il sindaco sarebbe un forte sostenitore di questo percorso le due prospettive erano contenute nel progetto di multi per il recupero dell'ex Ticosa svelato in luglio nella commissione territorio dopo l'incendio di venerdì scorso però le carte in tavola potrebbero essere cambiate perché i due milioni di euro prima necessari per recuperare l'edificio potrebbero non essere più sufficienti Allora subito un parere diciamo al di fuori della città di Como della città di Como Architetto Artioli lei mise quell'edificio sotto tutela per le motivazioni che ha espresso in apertura quindi motivazioni di carattere tecnico perché in qualche modo un paradigma di come devono essere realizzati certi manufatti la Santarella e per un motivo storico e culturale perché rappresenta la Como industriale che fu dipendesse da lei come recupererebbe quella struttura si è parlato di un utilizzo culturale di un museo si è parlato di locali universitari chiediamo a lei uno sforzo di fantasia di immaginazione è un tema difficile ci sono due soluzioni quella utopistica e quella realistica secondo me il bel servizio che avete mandato in onda mi sembra che c'erano nel progetto Polti c'era un'ipotesi quindi non è vero che l'esistenza del Santarella condizionava lo sviluppo di questo progetto che era stato fatto perché mi sembra che c'erano delle ipotesi di recupero poi si è fermato per altre motivazioni però se le ipotesi erano addirittura due almeno due ecco due quindi è interessante quindi c'è quella utopistica e quella realistica quella un po' utopistica che forse invece è realistica perché dice che potrebbe esserci delle sale delle strutture legate all'università questo sarebbe bellissimo è ovvio che tutti sarebbero favorevoli in un uso culturale di questa struttura però certo non dobbiamo cadere e quindi se c'è un interesse da parte dell'università da parte del conservatorio insomma di una struttura pubblica che possa lì svolgere un'attività culturale sarebbe eccezionale però molte volte bisogna essere anche realisti se dovesse innafragare questa soluzione bisogna ovviamente rivolgersi all'intervento del privato l'intervento del privato che potrebbe in questa struttura adesso io non so che cosa mettere ma è evidente che se il privato fa un intervento deve avere un riscontro economico una redditività una redditività eccetera io adesso non so potrebbe essere una struttura come in altri casi di queste strutture molto grandi è stato fatto di centri commerciali adesso io non entro nel merito perché poi non so se è previsto dal piano regolatore e dal piano del commercio una funzione di questo genere però quella potrebbe essere una struttura molto adatta a questo o a negozi di quartiere o recuperi anche come uffici o come studi di architettura studi di professionale mettere a reddito in qualche modo mettere a reddito e non ci sarebbe male l'unica cosa ovviamente ma tante volte è stato fatto e questo è necessario molte volte farlo è fare degli interventi ovviamente compatibili che significa non una struttura intangibile che non ci si può fare niente un intervento intelligente in maniera tale di utilizzarlo rifunzionalizzarlo ma nello stesso tempo conservare delle caratteristiche coerente diciamo con le caratteristiche coerente con le caratteristiche coerente ma non necessariamente che è intangibile quindi ci sono poi se c'è una struttura pubblica come l'università come il conservatorio come museo insomma ecco cadiamo un po' nell'utopia io credo museo della seta museo della bello ma della razionalismo perché credo che onestamente soffrono un po' tutti i musei e già ci sono degli spazi molte volte anche poco visitati quindi andarne ad aggiungere sia certo è bello sono delle immagini belle però poi concretamente vedo che è difficile mantenerle bisogna credo responsabilmente però questo non è compito mio è compito delle amministrazioni trovare anche delle funzioni che poi siano capaci di vivere autonomamente cioè non sempre del sostegno perché altrimenti diventa qualcosa che riesca a camminare con le proprie gambe pur conservando perché l'obiettivo vostro l'obiettivo suo come è sorprendente nel 2000 insomma è non mio voglio dire lì è stato riconosciuto un interesse pubblico la difesa perché altrimenti sembrerebbe un mio intervento autoritario l'interesse collettivo che lei rappresentava il vincolo ecco il vincolo significa che quando laddove c'è un interesse pubblico e l'interesse pubblico secondo me c'era per le motivazioni che ho detto precedentemente lì scatta il vincolo ovviamente il vincolo proprio adesso e poi chiudo qualsiasi vincolo ma anche nel privato si può fare altrimenti non si potrebbe fare perché si va a toccare un principio fondamentale della Costituzione che è l'articolo 42 la proprietà privata o comunque la proprietà si può toccare si può limitare solamente se c'è un interesse pubblico cosa che secondo me c'è qui viene ravvisato per i motivi che ci ha detto Assessore Antorno secondo lei l'incendio di venerdì rischia di complicare le carte in tavola riassumiamo nella proposta di molti venivano messi a bilancio comunque sul piatto circa 2 milioni di euro mi correga se sbaglio per contributo esatto per cercare di anzi per risistemare la riqualificare la Santarella dell'edificio e riconsegnarlo in uso all'amministrazione comunale che poi decide come utilizzarlo i danni causati secondo lei da quell'incendio hanno spostato questa cifra? guarda io dall'informazione appunto che ho detto prima sostanzialmente i danni sarebbero limitati e potrebbe essere a carico dell'assicurazione quindi non essere pagati dai comaschi qualora non ci fosse dolo però certo se troviamo l'autore che peraltro è ricco e a fatti i danni lo facciamo pagare però posso dire nipotesi abbastanza remoto ora io vorrei dire una cosa per rispondere anche al presidente prima cioè noi quando ci muoviamo anche nella futura scelta ci muoviamo dentro due paletti molto ben precisi perché non dimentichiamo che non siamo dei privati per cui sai privati a questo punto avevamo fatto un accordo ieri oggi è andato come è andato sono cambiati i tempi ci mettiamo a tavolino e facciamo una transazione noi non possiamo farlo noi dobbiamo muoverci sempre nell'ambito di un procedimento che è la gara pubblica del 2006 la gara pubblica ricordiamo che multi si aggiudicò per la costruzione del nuovo quartiere poi rapidamente cosa andò storto per ricordarlo ai telespettatori da casa certo poi naturalmente per vari vicende la bonifica del terreno eccetera eccetera il contatto preliminare non ha avuto seguito giustamente come diceva sono delle cause in corso c'è un intergiudiziario c'è un intergiudiziario ora siamo davanti al consiglio di stato c'è una lite per cui però attenzione le parti per fortuna di questo io il messaggio che voglio dare alla comunicazione all'informazione per non deprimerci per non deprimerci no qual è che le parti hanno continuato a dialogare quindi multi dialogando con il sessore di competenze il sito eccetera l'assessorato e con multi multi ha fatto una proposta alla quale prima faceva riferimento anche il presidente quindi siamo in presenza di questa proposta diamo gli estremi di questa proposta la proposta è questa valore aria 7 milioni ha fatto 10 milioni per urbanizzazione strade verde sotto servizi poi circa un milione e mezzo 2 milioni quale contributo per la qualificazione della santarella a destinazione pubblica da decidere da parte del comune poi peraltro per quanto riguarda anche diciamo la destinazione urbanistica del realizzabile del quartiere diciamo di cosa è prevista per quanto riguarda il commerciale è rimasto come ampiezza quella che era secondo il progetto originario e sarebbero previsti negozi di vicinato quindi piccoli no media distribuzione non alimentare tipo due 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 4.520 m2 di media distribuzione quindi due non alimentare più anche negozi di vicinato il commerciale questa è la proposta che però è ancora sospetta la cosa più interessante è che si riduce anche per quanto riguarda la residenza e cambia anche destinazione perché verrebbero realizzate se non erro circa 100 appartamenti in affitto in housing sociale quindi significa che oggi abbiamo centinaia di appartamenti non venduti a coma diverse centinaia di diverse decine di persone avranno la possibilità di poter occupare quindi questa è la proposta noi ora che facciamo dobbiamo dare una risposta a questa proposta abbiamo chiesto all'agenzia delle entrate di farci la stima dell'aria entro tre mesi ci daranno la risposta dopodiché in base a quella risposta decideremo questo perché la cifra offerta da molti è inferiore rispetto è la metà di quella che era originaria originariamente era 14 milioni e mezzo erano quasi 30 prima della riduzione volumetrica Presidente mi scuso allora inizialmente i soldi il progetto prevedeva come vendita 14 milioni e mezzo la vendita il prezzo di vendita nella proposta attuale è 7 milioni poi per opere di urbanizzazione i valori sono diversi perché prima la perizia la stima che avete chiesto all'agenzia delle entrate serve per cercare di accordarvi sul valore dell'aria il valore dell'aria quando vi arriverà questa perizia voi evidentemente chiederete cercherete di trovare un punto di contatto con molti allora in base al prezzo di stima che sarà fatto dall'agenzia delle entrate si entrerà nel vivo dell'attuale quindi tre mesi si conoscerà il valore dell'aria secondo l'agenzia delle entrate questo è un punto di partenza se la domanda mi sembrava diversa prego la domanda era valeva 2 milioni secondo molti davanti all'accordo adesso con l'incendio quanto vale al Santarella la riqualificazione mi sembrava la domanda no ho risposto alla domanda in questo caso secondo l'assessore eventuali aumenti di costi sarebbero coperti dalla danni sarebbero coperti no ripeto lo ripeto ho capito male io no no le riparazioni attenzione naturalmente sono diciamo non comunicazione ufficiale dalle informazioni che io ho recenti le riparazioni necessarie per l'incendio l'importo sarebbe un importo limitato non mi fate dire la somma in ogni caso questo importo verrebbe recuperato la dica a bassa voce che non la sente nessuno diciamo qualche decina di migliaia di euro quindi non parliamo di somme stratosferiche diciamo somme limitate affrontabili rispetto all'entità non sposterebbe non sposterebbe la questione Cerotti non è convinto che comunque per completare la richiesta di ristoro di questo importo è stato fatto e verrà fatta dall'avvocatura comunale all'assicurazione che copre tra poco la telefonata la domanda è interessante se c'è dolo l'assessore ha detto se c'è dolo di qualcuno ricco non risponde e se non è ricco chi non risponde? l'assicurazione non risponde perché non risponde? scusi ma mi perdoni l'ha detto lei non lo sto ripetendo le sue parole no scusi se uno le viene addosso con la macchina non lo fa apposta si l'assicurazione non risponde lei ha diritto all'assicuramento del danno da parte dell'assicurazione si o no? dell'assicurazione di chi mi è venuto addosso? no ah no? se la macchina è assicurata e qualcuno le viene addosso lei ha diritto all'assicuramento del danno se sa chi è che mi è venuto addosso no come no? se l'assicurazione è lunga poi l'assicurazione recupererà i soldi dall'autore che ha condolato ma quindi in caso di dolo cerchiamo di arrivare a noi in caso di dolo chi risponde? allora ripeto allora venisse assicurato il dolo voglio capire questo il danno è risarcibile in base all'assicurazione esistente punto quindi il comune ha fatto domanda all'assicurazione dicendo guardate avete già fatto domanda? esatto l'avvocatura comunale fa domanda e dove dice è accaduto questo mi riservo di far vavere gli esiti degli accertamenti e gli importi secondo stima e vi chiedo ristoro della somma che risulterà punto dato che questo evento da quanto mi è stato riferito è compreso nel contatto di assicurazione si presume che l'amministrazione comunale non avrà conseguenze negative poi se si trova l'autore del danno che sarà tenuto all'assicuramento del danno se qualcuno ha pagato per lui dovrà restituirle a chi ha pagato evidentemente il tema della Santarella è un tema marginale perché se l'agenzia delle entrate si poi utilizzerà i valori omi quindi che sono valori generalmente sovrastimati rispetto al mercato e non sottostimati e magari quasi sicuramente andrà a riconfermare la cifra originale dei 14 milioni di euro se non una cifra superiore non è non si arriva a un'attesa non è quelle migliaia di euro che possono servire per sistemare la Santarella ci sarà un problema serio di una multi che non vorrà pagare quel denaro là e non ci sarà modo di venire fuori di conseguenza la Santarella resterà così ma resterà così anche la Ticosa con riferimento sempre alla Santarella il contributo che darà a multi che naturalmente non dipende dalle condizioni in cui attualmente si trova l'immobile dopo l'incendio perché l'immobile resta sempre nella proprietà del comune di Como la multi darà questo contributo diciamo proposto da loro 2 milioni ma può essere anche maggiore a seguito della futura eventuale trattativa questo è proprio la parte che mi interessa quindi quell'importo poi verrebbe investito per la riqualificazione del bene funzioni future che è l'argomento che stava trattando la interrompo un secondo perché abbiamo una telefonata poi voglio capire però anche cosa ne pensano Cirotti e Casartelli di questa proposta multi e di questo quartiere così come è stato ridisegnato dall'attuale amministrazione capire se secondo voi è la soluzione giusta sempre che poi se ne arrivi a una Salvatore Dacomo al telefono pronto Salvatore buonasera buonasera dica pure senta io abito a San Rocco sì e volevo chiedere qui a San Rocco sta degradando sempre peggiorando qui a San Rocco dall'atticosa dico il comune quando ha comprato il comune non sapeva che c'era l'inquinamento sotto quindi l'amianto sotto l'amianto e l'inquinamento di tutto quello che c'era siccome l'hanno pagato anche tanto sapendolo già doveva sapere cosa trovavano sentiamo la risposta sentiamo la risposta subito grazie Salvatore buonasera buonasera allora annosa questione della bonifica grazie buon bacio ma io l'80 non c'ero presumo c'era non era assessore cioè esistevo però voglio dire una cosa la domanda è legittima è giusta quella domanda perché la bonifica di fatto è stato uno stacco anche una persona che non è competente sa perfettamente che se c'è un'indostratessere sopra sotto evidentemente è chiaro che il terreno non è vergine è una cosa elementare la sanno pure i bambini sono convinto di una cosa la sanno pure i bambini che se la Ticosa si fosse ristrutturata nell'81 con gli standard di sicurezza che si utilizzavano negli anni 80 avremmo già il quartiere della bonifica non si sarebbe interessato nessuno avremmo costruito e buonanotte esatto viva Dio abbiamo degli standard sicuramente più andrei volevo dire sulle funzioni importantissimo sarò brevissimo polifunzioni cioè dire la destinazione del bene proprio perché è bello come diceva è importante storicamente proprio perché è vicino Santa Bondio è una zona molto particolare vicino all'insubrio c'è un interesse forte dell'università per farci per esempio un'aula magna oppure una biblioteca perché loro attualmente la biblioteca ce l'hanno in via Boss quello potrebbe essere quindi quella è un interesse forte anche affermato poi le chiedo anche un commento sull'ipotesi B quella più commerciale non un'unica destinazione perché gli spazi i livelli sono diversi e si può pensare anche ad altre destinazioni Cerutti sentiamo il parere dell'opposizione a questo punto su una proposta che non si sa se verrà o meno poi ratificata perché è ancora mezzaria in attesa di questa perizia qual è il vostro pensiero come Movimento 5 Stelle come opposizioni in passato avete chiesto anche una riapertura temporanea lo ricordavamo del posteggio Ticosa qual è il futuro di questo quartiere così come è stato disegnato vi convince sì o no perché? allora distinguiamo le due cose l'idea su Santarella portata avanti con l'insubria è una buona idea perché ci sono anche delle opere compensative c'è una struttura delle poste in un altro luogo dove potremmo portare parte del catastro quindi è un bel progetto è un progetto per tornare a dare vita anche a Como alla parte universitaria che col campus che non è stato ha avuto una grossa volta con l'affossamento del campus avevano tutti la soluzione 17 candidati avevano tutti una soluzione per quanto riguarda questo comparto e nulla purtroppo se non andare a scavare e andare a bonificare quella zona che per fortuna è stata bonificata per renderla migliore adesso credere che Multi sia l'unica soluzione possibile per quel compendio ci sembra molto limitato vale a dire? vale a dire potremmo trasformare l'area veramente nel polmone verde della città di quei giardini che con i giardini a lago non sono mai stati il vero riferimento potrebbe essere quella nuova viabilità per entrare in città perché il signore che ha chiamato prima sicuramente avrà tutti i problemi della zona quella rotonda che non si riesce a fare ricordiamo che era previsto originariamente anche l'interramento di via Grande che era un progetto faraonico poi saltato c'era anche l'interramento di via Borgovico se per quello cioè di progetti c'era anche l'interramento del parcheggio sotto piazza Cavour potremmo fare una puntata sui progetti rimasti nel libro dei sogni nella proposta attuale c'è un miglioramento della viabilità del collegamento tra via Milano e Ticosa più morbido rispetto all'interno più morbido eccetera e poi un'altra cosa da dire io per carità se fossimo dei privati anche alla sua idea potrebbe essere anche trattiamone parliamone voglio sempre ricordare che qualsiasi nostra scelta è condizionata dal fatto che sono soldi pubblici per cui noi dobbiamo prendere quella decisione che sia la migliore per la città perché altrimenti la Corte dei Conti si viene a trovare con grande affetto e già sulle paratie come dire per responsabilità di altri però in qualche modo è interessante l'esempio fatto prima sul fatto della negligenza che non è così perché se noi lasciamo l'auto nel parcheggio con dentro le chiavi se ce la rubano l'assicurazione non risponde se noi lasciamo il permesso di entrare dentro la nostra struttura quindi torniamo alla responsabilità perché adesso la partita sulle rete massima attenzione condivido quindi ora ora è sempre ora è sempre ma allora l'ultima versione del progetto è apprezzabile è fondamentale il collegamento di questo comparto con tutto il comparto della via Milano Alta perché è l'unico modo per riuscire a trainare poi il recupero di quell'area quindi una forte integrazione di collegamento non sono d'accordo assolutamente con la realizzazione di spazi commerciali di spazi commerciali ne abbiamo già a sufficienza il problema è riaprire quelle che hanno chiuso nella Ticosa o nell'area Santarella nella Ticosa parliamo della Ticosa quella mia distribuzione da 4 minuti le soluzioni potrebbero esserci se c'è la copertura economica per ristrutturarla completamente poi la collocazione che possa essere l'università piuttosto la si può trovare in maniera efficace per quanto riguarda invece questa area della Ticosa il progetto quindi la realizzazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di questo housing sociale più la realizzazione esistenziale il mercato si sta muovendo c'è un po' di richiesta in più quindi c'è un po' di fame di alloggi in città sono convinto che chi realizzera alloggi di una certa qualità li collocherà sul mercato però è essenziale che questa area sia ben collegata con il resto della città perché è fondamentale per il recupero di quello che oggi si fa fatica a recuperare tutta quella parte della via Milano Alta via Alciato e quant'altro potrebbe essere trascinata perché uno sarebbe più interessato a investirci per ristrutturare e recuperare i negozi li abbiamo abbastanza oggi abbiamo il problema di riempire quelli che si stanno chiudendo quindi non vedo la necessità di creare altri spazi sociali di là bisogna realizzare parcheggi bisogna realizzare parcheggi per collegare magari poi con Navetta e quant'altro per migliorare la possibilità di scendere in città con l'auto perché ce n'è una fame disperata vediamo cosa sta succedendo sta esplodendo hanno creato delle condizioni in cui come sta esplodendo per il traffico sappiamo che sul tema siete molto aggueriti però è essenziale quindi creare spazi poi dopo quell'area verde che è pensata e quant'altro io ritengo che sia sufficiente e gradevole per riqualificare quella zona però è fondamentale il collegamento se manca il collegamento resta un'isola a sé stante perché altrimenti quella che noi chiamiamo tangenziale resta una cesura via grandi resta una cesura ad integrazione sono previsti 1200 posti di cui 600 pubblici i parcheggi e per quanto riguarda il commercio io dobbiamo tenere presente che questo lo prevede il progetto non possiamo più discutere di quello che nel progetto io sono io sono tipico possiamo discutere che non ci piacciono però noi dobbiamo stare dentro questi parametri fatemi sentire a tal proposito l'opinione dell'architettor Tioli perché lei in qualche modo la vedo anche un po' divertito nell'assistere a questa ver politica perché non ci è dentro diciamo a questo vantaggio di poter essere un battitore libero quindi da battitore libero le chiedo un parere di quello che ha sentito di ma qua di no sentito effettivamente capisco le legittime difficoltà dell'amministrazione che deve gestire ma sentito anche l'iter complesso che deve gestire anche un progetto che appunto poi non aveva ideato quindi so che ci sono difficoltà me l'immagino e concordo assolutamente che se fosse una proprietà privata forse si troverebbe molto più facilmente una col anche il fatto che è cambiato in questi anni il mercato e si potrebbe arrivare a divenire una soluzione però purtroppo al cambio delle condizioni di mercato che però ovviamente essendoci una gara espletata e vanno quindi io ecco capisco le difficoltà non so la soluzione e concordo sul fatto che se fosse privato se uno si potesse muovere con senza i vincoli senza i vincoli eccetera che ci sono e prima sarebbe meglio questa è una difficoltà il recupero oggi diciamo il recupero delle aree di smesso abbandonate inizia a diventare un vero problema nell'amministrazione delle città italiane guardi io lo vedo dal mio punto di vista adesso in questi anni ci sono stati veramente milioni di metri di aree abbandonate mi è capitato anche in altre città quello che secondo me è stato soprattutto poi quando il mercato del residenziale tirava quindi molte volte sono stati sostituiti queste aree residenziali aree industriali con residenza o centri commerciali eccetera quello che e molte volte siamo dovuti intervenire come soprintendenza in altre città Legnano Gallarate insomma c'erano queste strutture bellissime industriali che avevano come questa appunto la Ticosa rappresentato momenti storici importanti per la città e c'era anche un'affezione particolare e praticamente sono stati distrutti tutti e noi certe volte intervenevamo proprio all'ultimo cercando almeno di conservare una memoria su quegli oggetti più almeno più qualificati significativi ho anche una lettera il problema della Ticosa in effetti la soprintendenza l'aveva nel 95 si è scattato il vincolo formalmente nel 2005 ma già nel 91 sono andato a vedere abbiamo fatto una lettera proprio per evitare posso comunque sono tre righe e dicevamo in relazione al nuovo piano regolatore comunale questo siamo nel 1991 in via di elaborazione definitiva questa soprintendenza segnala l'importanza di alcune architetture comprese in zone industriali dismesse quale l'edificio dell'ingegner Alberto Dell'Acqua nell'area Cantoni che sarebbe il famoso Dadone che adesso qualcuno ricorderà che c'erano quegli edifici che era di questo ingegnere dell'acqua che aveva lavorato con Terragni e l'edificio Santarella nell'area Ticosa testimonianze concrete qualificate di un'attività economica passata che sarebbe interessante conservare per il loro significato storico ma anche per la loro preziosa qualità architettoniche dicevamo questo proprio perché in più occasioni ci siamo trovati ad intervenire quando il piano regolatore era già stato fatto quando le aree erano state vendute quando l'operatore magari aveva comprato e poi arrivava la sovrintendenza che è sempre spiacevole questo allora nel 91 lì avevate sì attenzione che c'è fate attenzione a questo quindi prima di operare avevamo mandato all'allora sindaco di Como non so non mi ricordo chi fosse all'ingegner capo e alla regione Lombardia all'assessorato poi per il piano regolatore ecco poi il cantone l'area cantone invece è andata poi avanti nella proprietà privata su Santarella su Santarella siamo ancora qua a parlare diciamo 91 2016 facciamo i conti degli anni è veramente una distanza le aree sono state tante in tutta la Lombardia però insomma ecco quello che io penso sia giusto che in ogni queste aree laddove almeno c'è una qualità architettonica lasciarne una testimonianza così come il Santarella mi sembra un fatto positivo un fatto che credo che anche la città adesso poi non so con tutte le difficoltà ma credo noi lo vediamo distrutto distrutto noi lo vediamo io penso che anche la città ci si è affezionata è un'icona insomma è rimasta quindi non credo che sia questo spreggevole oggetto che sta lì e che dà fastidio certo bisogna trovare una soluzione può non essere nelle sue condizioni migliori adesso ma a mio parere ha delle grosse potenzialità questa struttura certo si tratta di investimenti probabilmente come era l'idea del progetto legato a un intervento un po' più grande certo solamente quell'oggetto lì forse sarebbe anche ma legato all'altra a un intervento economico più grande come era stato pensato forse poteva avere delle soluzioni chiaro e quindi cerchiamo proprio di parlare di questo intervento in un senso più ampio quindi nel recupero di un edificio che lo dicevamo è stato interessato da questo vasto incendio nell'ambito però del recupero di una porzione della città che tutti i comaschi vivono in qualche modo come una ferita perché una ferita lo dicevamo in apertura una ferita aperta tra pochi minuti torniamo in studio e cercheremo di tirare le fila del dibattito di questa sera a tra poco Rush finale stiamo parlando di area ticosa quindi questione prettamente comasca un messaggio ci arriva da un telespettatore che propone una sorta di cittadale dei servizi da comune prefettura tutti gli uffici che servono al cittadino una volta che parcheggi fai tutti i documenti dice questo cittadino che propone proprio in ticosa un'area di accentramento dei servizi ricordavano durante la pubblicità come vi sia il comparto del monoblocco dell'ex Santana Santana assolutamente mi sembra molto più adatto molto più ben servito ed eviterebbe quell'effetto imbuto che portare in convalle e tenere soprattutto come stiamo facendo adesso quei servizi in convalle comporta quindi poter portare su ASL i servizi anche comunali non solo al monoblocco l'obiettivo è portarli fuori dalla convalle portarli fuori portarli in tutto quello che è l'ex ospedale Santana potrebbe essere uno sbocco sia per il raggiungimento della struttura sia per dare un valore finalmente a quello che è il Valmolini e un utilizzo adeguato a quella grande cattedrale ed evitare portarli quest'idea interessante ma preferirei in una visione urbanistica della città portare i servizi diciamo all'esterno quantomeno del centro cittadino molto più vivibile la zona sempre durante la velocità e accadono un sacco di cose durante questi pochi minuti Casartelli diceva io però non ci credo non ci credo che questo affare va e diciamo l'affare inteso come l'accordo tra il comune e molti questa società che dovrebbe ricostruire il quartiere io non credo vada a buon fine ci vuole spiegare perché Casartelli no io stavo solo ipotizzando il fatto che poi l'agenzia delle entrate dia una valorizzazione dell'area diversa quindi di cifre secondo me più coerenti con con questa con questo di questo comparto quindi diciamo 7 milioni offre offre molti ammettiamo che l'agenzia delle entrate confermi 14 milioni di euro come valore di quest'area valore ipotizzabile io stavo parlando prima gli dicevo che l'area in via Badoni dove sono state quella a fianco al nascente S.Lunga è stata collocata sul mercato parliamo grosso modo di quegli anni lì forse un pochino dopo a circa 20 milioni di euro quindi circa 20 milioni non siamo lontani da quella è un'area più piccola forse volumeticamente similare a questa quindi d'accordo che multi darà una parte di contributo in onere di urbanizzazione in realizzazione delle opere che vanno conteggiati però non è poi così fuori luogo pensare a una valorizzazione di quest'area molto distante da quello che è l'offerta della multi la multi dice no io ti do questi o niente ci troviamo in una situazione dove non abbiamo un piano B non abbiamo un secondo interlocutore secondo me abbiamo perso 4 anni di tempo dove si poteva sondare il mercato in maniera completamente diverso per riuscire a trovare altri soggetti interessanti interessati all'area per lo meno per metterli sulla trattativa questo non è stato fatto però mi piacerebbe se noi svidiamo la gente il discorso è questo signore noi siamo dentro un contratto preceduto da gara il che significa che non siamo liberi di fare quello che vogliamo ma abbiamo dei paletti per cui noi non potevamo dire ora me ne trovo un altro ciao tu te ne vai a casa io vado di là non è così quindi noi ora abbiamo guardate molto responsabilmente e lo dico in modo veramente diciamo serio non perché sono assessore perché è un problema nostro suo mio suo della città noi abbiamo ora questa proposta aspettiamo la perizia dell'agenzia delle entrate dopodiché naturalmente dato che le cose non sono segrete ne parleremo in commissione in consiglio la città ne parlerà noi alla fine dobbiamo prendere una decisione dire si chiude o non si chiude le perplessità però che ha spesso da Vartelli le condividono sul valore proprio scusi lo dico sempre qualsiasi decisione darà adito sicuramente a polemica e darà adito anche a nostra assunzione di responsabilità qualsiasi essa sia proprio perché stiamo parlando di due cose diverse tra il 2005 e il 2016 voglio interpellare gli ospiti in sala prima però le chiedo sulle perplessità relative alle cifre ma non è proprio così sulle cifre sulle perplessità esperte no io dico per carità il signor Casartelli dice 14 milioni e mezzo io dico che c'è una proposta di 7 milioni aspettiamo la perizia io non sono un esperto quello che ci darà la perizia dirà 7, 8, 9, 10, 11 dopodiché noi sapremo quanto vale ed è la perizia fatta da un ente pubblico a questo punto noi decideremo che cosa attenzione io credo naturalmente il mondo è fatto scusi il mondo è fatto anche da rapporti scusi c'è una proposta alla fine esce fuori un risultato alle parti si incontreranno dialogheranno parleranno la proposta che è Evangelo discutiamo se è possibile ma proprio portiamo a casa il migliore di città proprio per avere finalmente dopo 30 anni quella parte della città recuperata ma proprio perché è una proposta difforme da quello che era il contratto iniziale legittima l'amministrazione a guardarsi in giro se ci sono altre strade io se la invidio per questa sua sicurezza ma insomma mi sembra una cosa così logica nel momento stesso che una trattativa si incaglia io sono legittimato a guardare in giro se posso trovare delle soluzioni internazioni non sono d'accordo noi abbiamo sentito parere di illustri legali in materia abbiamo avuto incontro con illustri legali di cui non faccio il nome perché non è importante farlo andare a televisione siamo perfettamente consapevoli anche dal punto giuridico della situazione ora a questo punto chi ci sta lavorando da anni in particolare l'assessorato all'urbanistica ci arriverà questo risultato abbiamo questo progetto questa proposta che non è da buttare lei dice ci sederemo in tavola vedremo i trattati perché non è da buttare perché per quanto riguarda gli insediamenti abbiamo detto sono mantenuti per quanto riguarda la proposta non c'è credo la riduzione economica la riduzione economica sarà avvagliata e sarà quella giusta tale per cui nessuno può dirci avete sbagliato perché prenderemo quella decisione che sarà giusta ma non giusta da un punto di vista personale ma giusta secondo le regole perché noi siamo obbligati bisogna capire se poi riuscirete con multe a trovare evidentemente un'intesa sentiamo la platea perché il nodo poi alla fine è quello prego premetto che per me non è stata una scelta tanto opportuna anche dal punto di vista politico dell'amministrazione Bruni quella di optare per la demolizione degli Shed e mantenere il Santarella perché tra l'altro gli Shed erano costati l'aveva fatta l'amministrazione Botta prima due milioni due miliardi di lire ed erano serviti almeno a diverse mostre allora la legge mi corregga l'architetto Ortioli prevede anche che si possa togliere il vincolo benché si destini quell'area a scopo pubblico cioè non per fare volumetria da vendere allora io lì vedrei un bel verde che così mette in luce Santa Bondio che diversamente con l'edificazione a sud sarebbe nascosto però le chiedo il valore del Santarella così come è stato prospettato il valore del Santarella veniamo anche a questo vogliamo che l'amministrazione comunale con i suoi tecnici metta giù quattro righe e una stima x al metro cubo per capire i costi e i benefici perché le idee non ci sono lì è poesia dire che va dentro l'auditorium che va dentro l'aula magna che non si può fare perché ci sono le colonne in mezzo ma ci rendiamo conto di quanto costa mettere a posto quella struttura lì ingegneristicamente si può fare tutto si può rifare si parlava di prima dell'incendio di 2 milioni di euro secondo lei non è così i costi benefici non ci sono vogliamo finire di fare la poesia su questo chiaro quindi lei non condivide il recupero secondo lei Andrea Bebbatuto il Santarella così com'è sì chiarissimo una posizione che al di là di chi possa condividere o meno è molto chiara prima di passare la parola a Daiani che vedo in prima fila consigliere della Lega Nord chiedo ad Artioli se effettivamente questa posizione è prevista almeno tecnicamente questo momento non è prevista perché non ma io voglio dare un messaggio positivo perché voglio dire mi auguro nel 1956 la casa del fascio rischiava di essere demolita e poi ci fu non voglio adesso sarà un altro tema però poi nel 56 fu Bruno Zevi sulle pagine dell'Espresso a salvarla a lanciare però non interessava nessuno rischiava lo Stato le proprietà del partito fascista erano passate allo Stato lo Stato lo aveva messo in vendita e presumibilmente voi potete immaginare nel 56 se fosse stato venduto a un privato o veniva del tutto modificata ma molto più probabilmente considerando il mercato che c'era allora veniva boom e quindi e questa è stata la sorta ora forse il paragone è un po' improponibile però adesso è un'opera d'arte del 50 però le assicuro che forse all'epoca ora sicuramente è improponibile non è la qualità sono differenti eccetera lì è un monumento per me anche se non compreso appieno fino a 20 30 anni fa nemmeno dai comaschi mi ha fatto gli aggiungere ecco mentre questo è una cosa più modesta sicuramente però io diciamo il messaggio positivo è che magari si troverà una soluzione e che in futuro potrà diventare magari un polo di interesse un polo culturale e un polo di cui andarne fiero e non visto come questo elemento un gigante pesante un gigante pesante che dà fastidio e che mangia soldi io spero che appunto ci sia la capacità poi delle amministrazioni di magari fra qualche anno staremo qui ad apprezzarlo esatto apprezzarlo con un quartiere di cosa rinnovato e con il Santarella in perfetta condizione questa è la speranza che condividiamo ancora dalla sala il consigliere Aiani Lega Nord buonasera buonasera a tutti secondo me è stato un errore molto grave quello di mettere il vincolo su un edificio come Santarella errore molto grave perché adesso noi se vogliamo fare qualche destinazione d'uso ci troviamo impellagati in un mare di burocrazia assolutamente inutile assolutamente dispersiva nella quale ci sarà una serie di vincoli messi dal vincolo principale nel quale alla fine perderemo degli anni per fare alcunché e questa è una la seconda le si potrebbe rispondere il vincolo è vero che come tale impegna frena rallenta ma ha una motivazione una motivazione culturale storica senza dubbio e la condivide sì sì non lo sto dicendo però a mio parere è un errore grave infatti adesso lo vediamo secondo se vogliamo riqualificare totalmente e seriamente l'area dell'aticosa abbiamo sempre questo corpo messo lì nel bel mezzo che limita qualsiasi sviluppo di carattere edilizio di carattere urbanistico seconda cosa io ho rivolto all'amministrazione 12 domande su questo ultimo incendio perché qui stiamo parlando del Santarella stasera non stiamo parlando di cosa diciamo che lo spunto lo spunto del Santarella poi inevitabilmente si parla anche di ciò che c'è certo io voglio sperare che l'amministrazione mi risponda a queste 12 domande che gli ho fatto sull'incendio del Santarella e non su altre cose no terza cosa sull'assicurazione ma scusi assessore l'immobile è vincolato e lasciamo perdere l'immobile non è assolutamente agibile in via assoluta l'immobile è occupato abusivamente l'immobile contiene delle persone clandestine fino a prova contraria l'immobile contiene delle sostanze combustibili e anche infiammabili no e lei crede che l'assicurazione con tutto questo bagaglio di negatività paghi ma se lo scordi se lo scordi e comunque secondo me voglio dire per concludere perché non voglio rubare tempo secondo me questo edificio va demolito gli facciamo delle belle fotografie gli facciamo la bella storia gli facciamo il plastico gli facciamo anche il 3D che ormai è uno degli sport nazionali con tutti i reperti che vengono vengono come si chiama messi alla luce e dopo due giorni vengono coperti in compreso abbiamo degli edifici in como mica tanto lontano da qui che siccome sono storici la sovrintendenza ha detto ragazzi levate le persiane perché l'edificio è vincolato e aspettate il nostro permesso per rimettere le persiane così i serramenti in legno nuovi vanno a cagnotti perché non possiamo mettere le persiane questo adesso voglio dire mi rendo conto di divagare però il concetto è quello il concetto è chiaro lei dice quell'edificio così com'è non è da secondo lei non è da salvaguardare esatto o quantomeno mettendo sulla bilancia i vincoli che questo crea e il valore storico secondo lei la bilancia pende dalla parte della demolizione quando devi spostare un concio di questi muri o spostare qualche cosa o rimuovere una soletta sulla cui liceità non discutiamo per il momento un concio viene fuori un mare di carte e un mare di tempo per spostare un concio di queste pietre quindi vincoli di lice burocratici grazie a Milaiani lei ovviamente questa è la sua è la sua posizione all'epoca la posizione della minoranza fu diversa perché se ben ricordo Assessore Antorno l'allora minoranza in Consiglio Comunale si battè per salvaguardare Santarella parallelamente con il percorso che fece la soprintendenza però le voglio chiedere una risposta alla domanda sull'assicurazione che ha fatto voglio una precisazione perché io non ho letto il contratto di assicurazione ma l'Avvocatura Comunale oggi mi ha riferito che l'immobile è assicurato e che viene inoltrata alla pratica l'assicurazione gli sviluppi di questo naturalmente io non ho letto le clausole per cui non posso assolutamente dire niente diciamo che c'è questa possibilità che si avvarrà l'Avvocatura Comunale di questo inter poi vedremo l'esito di questo riguardo alla io qui abbiamo l'esperto Massimo perché per quanto ne so io riguarda il vincolo non è che è una scelta discrezionale per cui è piaciuta all'allora sovrintendente regionale mi piace questo e lo faccio per quanto ne so io per quel po' che ne so ma l'esperto è l'architetto diciamo è nato il dovuto quando noi abbiamo immobili pubblici come patrimonio comunale e vediamo che ci hanno 71 anni noi mandiamo la pratica siamo obbligati a mandarla alla sovrintendenza la quale decide se sì e se no l'allora confermo mi pare che fu così nel 2005 l'allora minoranza forse era in consiglio il consiglio Rayane ricorderà meglio sposo questa linea diciamo giusto per curiosità Cerutti e Casartelli forse dipeso da voi avreste tutelato il Santarella allora vorrei tornare su due passaggi l'assicurazione è diventata una possibilità e i 2 milioni di euro contributo di molti per rimetterla è un contributo cioè non vuol dire che mettere a posto Santarella costa 2 milioni quindi certo il valore per metterlo a posto saranno tutte casse comunali per metterlo a posto l'allora messa in tutela dell'immobile è stata una scelta spesso si valuta le scelte fatte dalla sovrintendenza come un fastidio e allora quelle opere magari ci sono stati negli anni costruttori che interravano si trovavano di noto sparivano quant'altro qui è un po' più difficile da nascondere un'opera del genere ora c'è la tutela dobbiamo rispettare quanto sottoscritto personalmente non l'avrei tutelato quella struttura perché era semplicemente la costruzione dove ospitava le caldaie era di fatto una struttura ad uso di servizi per la cosa non è che era è vero è stata costruita una delle prime costruzioni cemento armato ha un valore storico architettonico per gli addetti ai lavori soprattutto perché per le prime volte si sperimentava e di fatto è stato per l'uso che ne era è stato sovradimensionato in modo totale e è durato negli anni in quel senso perché hanno sbagliato i calcoli per il valore che era doveva dopo 8 anni venire giù e se ne faceva uno migliore c'è stato degli errori nella sua bellezza è un errore adesso purtroppo si fa il contatto adesso si fa anche peggio e quindi ora c'è deve essere tutelato quel bene volente o nolente dobbiamo rispondere a quanto chiederne l'abbattimento per motivate nuove esigenze della collettività potrebbe essere una strada la vedo ancora più complicata e di migliaia di carte bollate che come diceva non è poi quello il problema la ticosa è quello che frena l'iter potrebbe però essere in un qualche modo in un progetto successivo se non dovesse andare in porto quello con multi potrebbe essere uno dei però dei vincoli che non fa avvicinare qualcuno perché rispetto di quella struttura limita moltissimo eventuali altre espansioni è difficile prendere una posizione netta sono condivisibili un po' tutte le posizioni sia quelle dell'abbattimento che quella del mantenimento di questo bene io quello che ritengo è che deve essere fondamentale il fatto che ci siano innanzitutto le risorse per poterle recuperare integralmente senza lasciare delle parti non recuperate e secondo essere certi la destinazione il soggetto che se ne prenderà poi cura questo è essenziale si potrebbe riuscire magari a togliere parzialmente il vincolo magari mantenendo solo un vincolo sulla parte estetica quindi lasciando che la struttura esteticamente mantenga quello che era la sua originalità e riuscire a togliere il vincolo interno per permettere a chi interverrà internamente di modificarlo secondo quello che sono le esigenze del caso questo secondo me è essenziale ha ragione Anic li vai lì per spostare un mattone e quel mattone lì non lo sposti più posso velocemente prego il fatto che ci sia il vincolo è una scelta ovviamente tecnico discrezionale quindi si può benissimo criticare c'è chi ritiene che abbia meno valore ci mancherebbe la libertà però quello che non condivido tanto è che la scelta di demolirlo è perché ci crea problemi perché allora con questo io un altro vincolo che abbiamo fatto è il politeama e quello è un altro problema allora che facciamo demoliamo pure quello perché no è lo stesso discorso io posso assolutamente criticare si deve criticare tutto ci mancherebbe nessuno all'infallibilità cioè io dico secondo me non ha valore è stata una valutazione eccessiva va bene ne possiamo discutere ma solamente dire mi dà fastidio e quindi ho citato la politeama che è un altro problema che forse sarà l'altro che è stato vincolato dalla sovrintendenza quando nell'86 c'erano lo stesso problema dello stadio e di tanti altri problemi che ci sono stati messi dei vincoli che forse danno fastidio ma forse sono stati anche efficaci per non fare delle operazioni magari scellerate potrebbe essere una buona puntata i vincoli i vincoli ciò che è stato salvaguardato ciò che invece magari andava visto in modo diverso potrebbe essere un'idea ma il vincolo ha senso perché è rispetto un po' alla storia e alla memoria della città allora abbiamo due interventi rapidamente dalla sala poi andiamo a chiudere prego buonasera vorrei dire una cosa innanzitutto c'è in corso una variante al PGT in questo momento per cui essendoci una variante al PGT essendoci una variante al PGT uno può anche intervenire primo punto e secondo punto il valore di trasformazione allora il valore di trasformazione deve aspettare dal ministero delle finanze che dice tra tre mesi quanto vale il valore di trasformazione io vorrei ricordare come si calcola il valore di trasformazione cioè si fa il conto di quanto costa vendere gli immobili c'è qua un rappresentante meno il costo di costruzione e si calcola il valore dell'aria c'è bisogno di tre mesi per fare questo scusi grazie mille perché per avere i tre mesi abbiamo dovuto fare parecchia parecchia sollecitazione che in realtà i mesi sono molto di più quindi avete cercato di stringere i tempi i mesi erano molto di più abbiamo avuto questa gradevole possibilità potremmo magari settimana prossima divertirci noi a calcolarlo magari la interpelliamo giusto per avere anche per avere una misura prima ancora magari che arrivi quella poi ufficiale magari arriverà l'ottantesimo giorno oppure magari arriva subito 90 giorni per esperienza pregressa veramente è un diciamo è grande disponibilità da parte dell'agenzia che si è fatta carico proprio della necessità di non perdere altro tempo ultimo intervento dalla sala prego buonasera buonasera grazie ma mi ricollego a quest'ultimo intervento proprio per capire una cosa di fronte a questa nuova novità che verrà messa sul piatto con il valore di perizia chiamiamolo in questo modo essendo come diceva l'assessore all'interno di una gara che si è svolta allora a questo punto la mia domanda è se vengono a modificare quei termini e quindi bisogna andare incontro ad un'altra gara o secondo lei andare in consiglio comunale accettando quel valore non comporterebbe nessun rischio di contenzioso ho molti dubbi perché altrimenti si potrebbe creare un lungolago bis con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista giuridico e quindi cosa vuol dire? la mia impressione è che qui si cerchi di prendere tempo per arrivare alle prossime elezioni per passare il cerino in mano a qualcun altro perché altrimenti non capisco tutte queste perdite di tempo e poi si è parlato dell'assicurazione dell'eventuale rimborso che poi alla fine mi sembra si stia parlando di poche decine di miliardi di euro ha detto che i danni se ho capito bene sono ammontano poche decine di miliardi di euro io ho capito così poi magari ho capito male però siamo di questo si dà una rilevanza incredibile a questo fatto che c'è l'assicurazione ma il fatto importante è quello che diceva Ceruti che c'è stata una negligenza perché se so benissimo che all'interno lì ci sono dei rischi allora faccio come è stato fatto all'ex orfanotrofio blindo tutto non è stato fatto così e allora perché non è stato fatto così e poi in questa città oggi come oggi abbiamo bisogno di metri cubi di cemento cioè come ha bisogno di case ha bisogno di tutto questo secondo me no con tutto il patrimonio che c'è da ristrutturare oggi come oggi andare incontro al nuovo progetto poi fate voi ve ne assumete le responsabilità e voterete in aula magari in giunta sul progetto sulla perizia su quei valori se ne avrete poi la possibilità perché se avete sentito importanti giuristi diteci anche se nell'ambito di quella gara è fattibile questo percorso e quindi quel progetto ci sta ed è legale perché altrimenti andiamo a dire delle gran balle alla gente in città allunghiamo i tempi allunghiamo il brodo e chi arriva dopo si prende il cerino grazie sentiamo la risposta e poi andiamo a chiudere noi abbiamo ricevuto una proposta siamo obbligati a rispondere a quella proposta di trattazione obbligati giuridicamente prima di dare la risposta abbiamo chiesto una stima a un soggetto terzo avremo la stima risponderemo numero uno numero due mi scusi da quanto tempo avete in mano il progetto il secondo la proposta di questi mesi numero due quando io ho parlato sul presumibile ammontare del danno ho voluto escludere e l'ho preciso che si tratti di somme tale da cambiare in connotata la situazione quindi non di milioni di euro quindi contenuti ora non so dire se sono X piuttosto che X più uno X meno uno però è un importo contenuto ecco andiamo oltre sulla gara per questo mi interessa capire terzo argomento fondamentale importante vi prego di assumerci tutte le responsabilità in modo serio perché non siamo nell'ambito di una polemica politica qui siamo noi abbiamo ereditato una situazione molto complessa sulla quale vogliamo e dobbiamo rispondere non prossimo mandato in questo mandato quindi noi ad esito della perizia noi daremo la risposta ah secondo lei ci potrebbe essere il rischio di dover rifare la gara? prego ci potrebbe essere il rischio di dover rifare la gara? guardi noi stiamo allora vi dico giuridicamente qual è il problema abbiamo una proposta di transazione bisogna rispondere la transazione o si trova all'accordo o non si trova e quindi si riparte a zero Casarzani poi chiudiamo una cosa che contrasta con quello che diceva l'avvocato è che sulla terza perizia di variante del lungolago mi sembra mi sembra che sia stato eccepito il fatto che il modificare delle condizioni aveva reso necessario una nuova gara d'appalto qui è evidente che le condizioni originali sono state stravolte ma si rischia lo stesso ma certamente ma è normale quando dicevo che in questi quattro anni si poteva ragionare cercando altri interlocutori era proprio per questo per evitare questo rischio oggi si poteva se in un'ipotesi di questo tipo avere degli altri soggetti che potevano io devo chiudere in questo caso in questo caso rischio io di essere poi linciato dalla regia se non vado subito a chiudere un applauso per i nostri ospiti in sala grazie ovviamente per la loro disponibilità grazie a tutti voi da casa che ci avete seguito nessun dormo torna settimana prossima grazie a tutti